Gentili telespettatori, buona giornata. E così Donzelli, che è il capo dell'organizzazione politica di Fratelli d'Italia, possiamo definirlo il principale fedelissimo di Giorgia Meloni, ha cominciato a girare le televisioni per la difesa degli interessi del partito, del governo e dice dov'era Arianna Meloni quando Renzi stava alla ruota della fortuna? Allora lui va a Inonda, Inonda è un programma di La Sette, La Sette è una televisione di sinistra, Inonda è un programma di sinistra, i conduttori Telese e Aprile sono di sinistra e gli ospiti sono di sinistra, più o meno quadratutto, perché furbescamente La Sette ha deciso che tutta l'estate il suo programma di politica in onda è andato in onda costantemente, Telese e Aprile non saranno andati in vacanza, hanno preferito lavorare sulla Sette tutti i giorni, quindi La Sette ha continuato a parlare di politica, mentre le altre televisioni hanno chiuso baracche e burattine, ha detto ci vediamo a settembre, how feeders and goodbye. E quindi si è parlata tutta l'estate del programma in onda, in onda dicono, in onda fanno, in onda pensano e anche oggi, quindi in onda sono più furbi delle altre televisioni? Eh sì, sì, diciamo che a sinistra hanno sempre quella marcia in più di furbizia, eh sì, a sinistra sono più furbi, a destra è un po' meno, un po' meno furbi, un po' più bonaccioni, volemo se bene, bacioni, mentre dall'altra parte non mandano i bacioni. E così Giovanni Donzelli va in studio e Marianna Aprile chiede, lei ha accusato la magistratura in accordo con certa stampa e una certa parte politica di voler cospirare per ribaltare il risultato elettorale. L'ha accusata sostanzialmente di eversione, non è che magari è una cosa detta caldo perché sono parole pesantissime. Lei ripeterebbe oggi le stesse cose accusando la magistratura non avendo nessun tipo di prova ma solo quello che Sallusti racconta sul suo giornale? E Donzelli replica, le direi esattamente così e secondo me le dovrebbero ridire tutti. Se la notizia di reato viene creata a tavolino non dovrebbe piacere a nessuno. Se inventano una notizia e un reato che non esistono per spingere i magistrati a indagare una persona che non ha fatto niente di male per poter così indebolire il governo se fosse vero è una cospirazione grave e pericolosa che dovrebbe indignare tutti i partiti politici. Perché la democrazia si basa su pilastri fondamentali come la suddivisione dei poteri. Nell'ipotesi di Sallusti c'è l'idea di creare apposta un fatto per spingere la magistratura non a verificare un reato ma ad avviare un'iniziativa politica. Arianna Meloni era accusata di avere indicato delle persone per delle nomine. Lei ha smentito e lo stesso ha fatto il governo. In un confronto democratico tutto questo non serve e inquina le cose. Arianna Meloni, dice Donzelli, era già punto di riferimento per i militanti di destra mentre Renzi andava in televisione alla ruota della fortuna. Chi la critica dovrebbe imparare da lei. Che cosa dice? Che Arianna Meloni ha cominciato in politica come la sorella quando avevano 16 anni o una cosa del genere. Arianna Meloni, se non sbaglio, non vorrei dire una corbelleria, entra nel movimento sociale italiano, comunque vicino al movimento sociale italiano, l'MSI. Quindi lei in quegli anni cominciava a fare politica, non so in che modo, se era molto attiva come politica o no, non lo so, comunque cominciava a muovere i suoi passi nella politica, questa Arianna Meloni. E Donzelli dice che mentre Arianna Meloni già era in politica, Renzi andava alla ruota della fortuna in televisione su Canale 5. Allora, se voi guardate, se voi guardate, sia Renzi che Salvini, quando erano giovani, avevano provato ed erano riusciti ad andare in televisione, se non sbaglio uno alla ruota della fortuna e l'altro non so dove, comunque Renzi e Salvini erano già due che volevano farsi vedere, volevano che la gente si accorgesse di loro. E quindi uno giovane prova, va in televisione, cerca di farsi notare. Infatti poi i due sono riusciti in politica poi a farsi notare perché hanno cercato in tutti i modi di diventare qualcuno. Alla fine è molto probabile diventare qualcuno se tu cerchi di diventarlo, se tu aspetti di diventare qualcuno che ti piova dal cielo, difficile che accada. Renzi e Salvini erano due che provavano e provavano e provavano, andavano anche ai giochi televisivi per farsi vedere. Infatti se voi cercate in internet trovate le fotografie o i video di Salvini, di giovanissimi Salvini e Renzi, uno alla ruota della fortuna, l'altro forse alla stessa programma, ma non lo so. Quindi Donzelli dice che dovreste imparare da Arianna Meloni perché mentre lei era già un punto di riferimento Renzi andava alla ruota della fortuna. Chi la critica dovrebbe imparare da lei. Allora quello che dice Donzelli è questo. Alcuni politici hanno cominciato ad ipotizzare un reato che Arianna Meloni avesse influenzato in maniera illegale e illegittima le nomine, sperando che la magistratura poi, sentendo questo, avrebbe poi aperto un'indagine. Perché di solito funziona così? La magistratura si muove di sua iniziativa oppure quando un fatto viene conclamato. Quindi quando molti continuano a ripetere una cosa magari la magistratura fa un'indagine per verificare. Quindi l'accusa di Donzelli è che alcuni politici continuavano a parlare di questo possibile reato per far attivare la magistratura, che è anche possibile. Naturalmente il reato di influenze, il punto non è che Arianna Meloni abbia consigliato la sorella per nominare qualcuno, perché non è reato, non esiste il reato di consigliare qualcuno. Il punto è, il reato di influenza è quando tu fai ottenere un lavoro a qualcuno in cambio di un tuo beneficio principalmente economico. Quindi l'accusa di reato di influenze illegali è proprio quello che Arianna Meloni avrebbe fatto avere ad amici o amiche dei posti di lavoro in cambio principalmente di un'utilità, che può essere soldi, una vacanza, un orologio, dei vestiti, quello che volete. Quindi l'accusa che facevano alcuni politici non è Arianna Meloni ha consigliato alla sorella le nomine, perché quello non è un reato, ha consigliato alla sorella delle nomine, ha fatto avere delle nomine in cambio di chissà che cosa. Ecco, questo è abbastanza grave, quindi facevano circolare questa cosa sperando che la magistratura si fosse poi attivata con un'indagine, quindi poi Arianna Meloni indagata per traffico di influenze illecite. Ecco, questo è quello che dice Donzelli. Arrivederci a tutti e grazie.